Vabbè a tutti i ragazzi qui vediamo il video di un cerco di più non ho fatto capito intro perchè sono scemo bene come vedete qua c'è sempre il nostro Clash Royale e poi disinstallerò sull'Arena 7 vabbè fottoncazza andiamo sulla store cerchiamo un nuovo gioco geometri dash geometri dash like da che cazzo è no 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 non lo voglio eccolo qua ho trovato ragazzi c'è veramente guardate la scleraggia suprema praticamente eeeh davvero 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 difficile vabbè quanto di carica sarà 32 niente vabbè porto un minuto vabbè 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 Cosa sto facendo? Perché c'è una chiave? Ah mi c***o a bloccare sti cosi Cosa sto facendo? No! Fuck you Wow, proprio così funziona Ma non è che la putana 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 Ah ragazzi mi lascio un guai Mi dite un po' di informazioni Passate su Twitter Intaccato Facebook Avvucca mavolata e puore da Cristo Caro come ho schivato mi raccomando che domani è il mio compagno 11 luglio e se dovrò pubblicarlo l'11 luglio se dovrò pubblicarlo l'11 luglio sto video domani non esisterebbe sto cazzeggiando mamma mia la puttana cambiamo livello va porca mignotta adesso vi faccio vedere la pubblicità sto cazzando andiamo su ma mi state trollando arriviamo da tempo 10 questo perché mi sto cagando addosso già vedere la grafica che canzone di merda mandagli la puttana va bene 26 26 fantastico airbran roba airbran che cazzò qualcosa cosa devo fare ah ah due tocchi what cosa sto facendo cosa sto facendo sono un genio ma andagli la puttana ma andagli la puttana ma andagli la puttana 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 sta canzone mica non cazzo mi lascio il mio padre che sto raccontando Ave Maria Ave 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 Maria che bei termini mi sto crescendo è per questo qua che ne parlo pure i messaggi che cazzo è what cos'è aiuto la supposta è non c'entra cazzo però vabbè oh wow che cosa pure vicky in carina dobbiamo arrivare a 80 ci sarà un drop della madonna dopo il drop del primo livello è fantastico il drop della canzone ma vedete che faccio la intro con sto cazzo di coso che lo finisco tutto poi magari ti piacerebbe guarda e volevi no vaffanculo guarda che fa guarda che salta raccobatico mia tadra what the fuck ma che cazzo vai fare il video vai è il secondo che mi piace vedere di più perché prima è la canzone che era più tamarra non che io sono tamarra vabbè vabbè ragazzi ragazzuoli andiamo a vedere sto cazzo ciao va bene ciao e va bene va bene va bene va bene cosa facciamo cosa facciamo ma secondo voi dobbiamo non vedrai i risultati del fantasy calcio merdoso no stasera c'è la finale giusto non lo so perché non mi intendo di calcio e sei un drogato circo sei un mago della panchina sì sto cazzo guarda i punti allora 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 io ho eh ho 230 punti una quadra vabbè ragazzi direi che si può concludere qua no e mezzo afferma un minuto vabbè direi che il video di oggi si può non ci vediamo al prossimo video bella